E' scattata all'alba di oggi in tutta Italia l'operazione della Guardia di Finanza di Rimini per una frode fiscale da oltre 2 milioni di euro nel commercio di materiali inerti che ha portato a perquisizioni anche in Abruzzo, nei guai imprenditori ed aziende. L'operazione ha interessato anche la provincia di Chieti e dell'Aquila. Quattro in tutto gli arrestati, di cui due in carcere, due domiciliari e 44 le perquisizioni domiciliari eseguite tra le province di Chieti, L'Aquila, Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Messina. I finanzieri stanno eseguendo anche un decreto di sequestro preventivo di 5 complessi aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, le anomale operazioni di trasporto di materiale inerte e ha portato questa operazione all'individuazione di una vera e propria filiera societaria fraudolenta che ha realizzato un vorticoso giro di fatture false dal 2018 al 2021 arrivando a evadere oltre 2 milioni di euro di imposte. L'amministratore di una società della provincia di Rimini, per sottrarsi al pagamento delle tasse ha intestato fittiziamente a terzi le quote e i beni strumentali di 5 società con sede nella provincia di Rimini, oltre ad un immobile ubicato nella provincia di Rimini.